Iniziamo un'altra giornata di duro lavoro. Eccomi qua, altra giornata di questo ufficio tra fotocopie, fax, gente che fa, gente che viene, esauriti. Io non ce la faccio più, no, no, io mi sento e inizio a lavorare qua, 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 allora, Roma, Juve e Giascio, ok, ok, allora, sette orizzontale, è famoso quello di Troia, figlio, figlio, si utilizza durante il sorpasso, dito medio, dito medio, cinque, è un fatto importante, boba madre, boba madre, ecco qua, il primo rompiscale, avanti, buon giorno, voi siete quello che è del lavoro? Sì, sono all'addetto, e chi l'ha detto? All'addetto del lavoro, e chi è all'addetto? Chi l'ha detto? L'ha detto, chi l'ha detto? L'ha detto io, l'ha detto tu? Ah, tutto a posto, quindi tu sei, io voglio parlare con una pezzola in patate perché devo pigliare il lavoro, eh, mi deve fare la fila, che devo fare? La fila, però non c'è nessuno, che fila devo fare? Allora, io già sto lavorando, come vede sto sporgendo una pratica importante, e mi devi fare la fila, ok? Ma se l'ha appena detto che c'è ok? Un po' di fila, ma non c'è nessuno, non faccia il solito impertinente, vada fuori e faccia la fila, subito, eh, c'è una pomodora a San Marzano, eh? Buongiorno, un'altra volta qua, eh, hai fatto la fila, ho detto che devi fare la fila, sto lavorando, non vedi che sto lavorando? Eh, ma io ne faccio sinceri mai capito, non c'è nessuno là, forse, ho solo io, avete capito? La fila, non si può fare, non c'è, non c'è, non c'è nessuno, ma che fila devo fare, non mi piace io, non c'è nessuno, ma che compagno, ma che compagno, non ci sta bene? Lo so, è da poco uscito da una palcina, vada fuori, vada fuori! Vada, fuori, fuori, ho perché i pazzi tutti quanti qua, la storia è uno sport, pazzi, eh? E non buttare! Buongiorno ho fatto la fila, siete contenti? Ma io non mi sono proprio spiegato eh, forse non mi sono proprio spiegato. Vada fuori! Mi ha fatto mamma la fila! Fuori! Ha capito ma l'ho fatta lei se non c'è nessuno. Mi hanno pure buttato, ma che fila devo fare? Vada fuori! E vado fuori! Io non devo da metterle, vado fuori! La miseria, mannaggia! Fuori! Fuori! Beh, con la calma si ottiene tutto. Fuori! Eh, non ti voglio. Basta fuori. Fu! Ma sei scepo! Ma mi sputo in faccia! E vuoi vedere che in mezzo a tutta questa gente sono stato lì? Forse, vieni avanti! Forse, vieni avanti! Voglio lavorare, vai presto! Fammi parlare con una persona importante! Forse! Ci l'ha detto! Forse! Ci l'ha detto! Ci l'ha detto! L'ho detto io! Che lavoro! Io l'ho detto! E io voglio lavorare! E io voglio lavorare! Fammi parlare con una persona importante! Forse! Forse! Faccia il modello! Vuoi lavorare? Faccia il modello! Eh, vabbè! Che io non ho tempo da perdere! Faccia il modello! Ma hai detto! Ma hai detto! Faccia il modello! E sto! Sono andando! Devi fare il modello! Ah, ci capisci! Sto andando! E io non ho tempo da perdere! Perché devo andare a male domani! Devo fare il ciro d'ombrellone! E io non ho tempo sui prima! No! Bravo! Bravo! E' che cosa va adesso! Che sei facendo? E io ho tutto! Vedi ti ho aspetta! Scusi! Ehi! Ma che stiamo facendo? Ha smilato? E tu mi hai detto di fare il modello! E mi ho riuscire! Ma te sei proprio scemo! Proprio ignorante! E' ovunque rega! Ma scemo sono io! forse il modello con il foglio con il foglio si sbrighi perché veramente vi voglio bene, chiedo scusi forse non ho tempo mi faccio il modello con il foglio sono un po' ignorante, scusate non l'avevo capito scusate, scusate io faccio le pratiche del 2 marzo 2015 giallo rosso di rimonta mi dico ancora, che stai facendo? il modello con il foglio il modello con il foglio e tu mi hai detto il modello con il foglio vieni qua, facciamoli insieme che cosa? facciamoli insieme che cosa? facciamoli insieme ma che cosa? tu sei malato mentale tu sei malato io sono malato io sono malato io sono malato un neurone è che lo sei giocato a poker è un neurone fatto è un neurone così così è? ecco il modello vieni qua vieni qua vieni qua purtroppo non è colpa tua quella è la clinica qui dietro è chiusa mi hanno mandato i pazzi a me ma ti sei pazzi? forza allora tu vedi stai matti dietro cerca la forza per se i pazzi generalità eh? generalità generalmente tutto a posto diciamo che non mi manca niente la famiglia sta bene le pecore campano i lupi li ho ammazzati tutti quanti ci ho fatto eh che stai dicendo? generalità i suoi candidati la ha i suoi fatti privati i miei fatti privati tutto a no come ti chiami? ah come mi chiami? scrive 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 peppe nil scrive è scritto è scritto peppe ho tre piste peppe bravo peppe nil peppe nil cognome peppe nil scrive è scritto è scritto cognome cognome serve un bambino in affitto? no ce ne ho tre a casa grazie peppe nil peppe nil cognome peppe nil cognome cognome peppe nil deciditi ignorante vabbè andiamo avanti peppe nil peppe nil peppe nil sesso eh sesso è nostro è proprio enorme enorme esagerata una cosa ma non mi interessa sono cose sue io qua ho due caselle omage a peppe n o f scrive xl xl tendente a xxl eh pochi signora eh non piance non piance c'è il bello eh c'è il bello ma diciamo che in paese mi conoscono un po' con tutti quanti vado dal macellaio con quelli tutto a posto quello mi regala la carne fate la verdumaro per venire tutto a posto quello mi regala la frutta le zucchine i banani i puparolo se sei vivo o sei finto sempre vivo sempre vivo sempre vivo sempre vivo vabbè andato so via non voglio sapere i fatti tuoi non li voglio sapere c'è se tu mi hai detto se sono celebre celebre se sono celebre mi conoscono tutti se sei sposato se sono sposato ah ma parla italiano scusa italiano 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 parla italiano italiano io 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 tu Africa per poco ancora l'atman in Africa domani a favore in Africa domani un carico di pecore le banane le banane amico mio seppo perché sono celebre me le regala sei sposato buona banana sei sposato e ho detto di sì con un femminone esagerato scritto esagerato vai e scritto sposato con un femminone esagerato come è norma no furgone esagerato bravo scritto sua moglie come fa oh ma fa solo come fa vicino a me come fa un'altra spinta che mi dà un'altra spinta le vado fuori come prima attenti che può piovere attenti che ti piove nell'occhio sua moglie come faceva da signorina come faceva da signorina che è come faceva la signorina come faceva da signora è bravo hai scritto Ci siamo ma... Ah... 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 Me ne passi andare finì! Il nome il tuo amore! Il nome di mia amore? Che ci vuole? Parlo in Italia! Se sembra parlare strani... Ma dove si chiama? Quale scuola hai fatto? Dici la terza alimentare! Alimentare? Si vede! E la fara mozzarella a botto! Eh... Allora, il nome di amore. Come si chiama? Scrivi Checca. 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 Checca, checca. Il nome? Catone. Scrivi Checca. Checca. Checca Catone. Checca Catone. Faccio pure un fratello. Si chiama Luca? Luca. Luca Catone. Papa parola, una famiglia di me. Ehi, ti dico queste cose. Disgraziate, è scritto Checca Catone. Checca. Checca. Luca Catone e Checca Catone. È bella, la famiglia. È bella, proprio a cosa. Profumata. Ehi, assa. Brole? Eh? Brole? Non ho capito. Brole. Brole. No, no. Non l'ho portata. Meno di me. Perché tu? Brole? No, no, no. Non ce l'ho. Brole, brole. E non ce l'ho. E dai, brole. Allora, non ce l'ho. Ma tengo solo. Brole, ce l'hai? Tengo solo. Che c'è che va? Formaggio. Oh, davvero di prosciutto. Ah, brole? Non ho capito. Oh, damami, signore, damami. Le pazze tutte da me vengono, tutti. No, io non mi vuoi bene. Ma voglio sapere se c'è la salumeria. Io voglio sapere se hai dei figli. Ah, i figli. E parli da lì. Mamma mia, mamma mia. Ma tu a scuola dove sei andato? Io. Eh, la stessa scuola mia hai fatto. Siamo là. Ah, che voi sapete? C'è un figli. Sì. Eh, scrive, allora. Ah, un brolo. Un brolo. Un brolo. E una brola. E una brola. E un brolino in amici. E un brolino. Un brolino. Brodino. Brolino. Brodino. No, veramente fermo. Bravino. Fede, scrive, scrive. Insomma, insomma, non voglio perdere altro tempo. Lei da me cosa vuoi? E l'ho detto prima, sono venuto qua a cercare lavoro. Oh, perché vuoi? Che lavoro vuoi fare? Ah, che lavoro voglio fare? Allora, io quando lavoravo ai tempi di Mussolini. No. Come si chiama quello che tu fai? Che cos'è sta cosa? Che? 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 Che v� è là? Che? Come si chiama quel lavoro? Che? Che? о? Che? Che? Che, che? Che questo. Che che? 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 Io praticamente facevo l'addomesticatore di leoni. L'addomesticatore di leoni? Esattamente. Ma qua dal patriatico non ci sono leoni! E' normale, se ci sono i leoni che venivano a cercare la porta a te!